Dei finanziamenti pubblici legati non a un intervento diretto dello stesso consigliere comunale o dell'assise di cui fa parte quel consigliere comunale, sicuramente se fosse vietato ci sarebbe una norma che lo vieterebbe. I diretti interessati giurano tutto lecito, tutto legale, ci mancherebbe, tutto pure opportuno e trasparente, così come trasparente la rabbia del sindaco Angelo Palmisano che difende senza se e senza mai il suo consigliere comunale. Lui, il capogruppo di Fratelli d'Italia, Pietro Santoro, è finito nell'occhio del ciclone eppure delle opposizioni che avevano denunciato la poca trasparenza come minimo in quel bando sui fondi ristoro a cui hanno partecipato solo tre ditte. Di queste due sono riconducibili per legami familiari e di sangue proprio a Santoro. Un centro estetico della moglie, 56 mila euro, e 14 mila euro alla ditta del fratello. E se c'è chi ora promette una visita in procura, Palmisano difende, rivendica e attacca la regolarità del procedimento e l'onestà non solo di Santoro, ma di tutta la sua maggioranza. Sulla questione delle opportunità e dell'opportunità politica, io ho anche ribadito, e rientro nella sfera personale di ognuno di noi. E non è giusto che sia io né a giudicare né a dire quello che verrà fuori poi da questo dibattito. Perché comunque, prima di tutto, nessuno si è appropriato di niente, perché partecipare a un bando pubblico, fino a prova contraria, non è un reato da parte di nessuno. Santoro, presente alla conferenza, prima ascolta in silenzio, poi risponde alle domande dei giornalisti, confermando però un'onestà in primis intellettuale di chi ha semplicemente seguito da imprenditore un'opportunità pubblica e accessibile a chiunque. Per quanto riguarda l'opportunità politica, mi riservo nei prossimi giorni di darvi maggiori delucidazioni.